Sono sei, in pregitaria, delle ore 16.35, in promenie interazione, è in arrivo al binario 10, invece che al binario 7. Attenzione, sono rinforzati dalla linea Giazza. Il prego regionale è in 11.10, quando sono sei, in pregitaria, delle ore 16.35, in promenie interazione, è in arrivo al binario 10, invece che al binario 7. Attenzione, non rinforzarsi dalla linea Giazza. Attenzione, non rinforzarsi dalla linea Giazza. Attenzione, non rinforzarsi dalla linea Giazza. Attenzione, non rinforzarsi dalla linea Giazza.